Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale didattico Diego Dispiego nella sezione della matematica. In questa lezione continueremo a risolvere i nostri sistemi lineari utilizzando però il metodo di riduzione. Anche per questa lezione ti consiglio di guardare il mio video sull'introduzione ai sistemi lineari e di conoscere come si risolve un'equazione di primo grado. Il video sarà dedicato brevissimamente alla teoria, cioè diremo molto velocemente che cos'è il metodo di riduzione e poi ci dedicheremo a fare gli esercizi. Vediamo se capisce qualcosa, va! Il terzo metodo che andremo a vedere è il metodo di riduzione. Nel metodo di riduzione faremo la somma o la sottrazione delle due equazioni che abbiamo nel sistema. Prendiamo per esempio in considerazione il sistema scritto x più 2y uguale 5 e 3x meno 2y uguale 9. Perché in questo caso è conveniente utilizzare il metodo di riduzione? Chi me lo dice? Eh, me lo dice l'analisi dei coefficienti. Cioè se io vado a guardare i coefficienti del sistema, osservo che la y nella prima equazione ha il coefficiente più 2. Nella seconda equazione ha il coefficiente meno 2. Ora vedete che questi due coefficienti a meno del segno sono uguali. Quindi se io facessi una somma di quei due coefficienti, loro se ne andrebbero. Quindi che cosa faccio? Una vera e propria somma o sottrazione in colonna. In questo caso, siccome i coefficienti della y hanno segno opposto, a me conviene sommarli. Perché in questo modo 2 meno 2 mi dà 0. Chiaramente se sommo quei due termini, devo sommare tutti i termini del mio sistema. E ovviamente il sistema deve essere scritto in forma canonica, perché non posso sommare le x con le y. Dovrò avere x, y e termini noto. Quindi che cosa farò? x, dove davanti c'è 1, più 3x farà 4x. 2y meno 2y se ne andrà, quindi avrò 0. E 5 più 9 farà 14. Quindi vedete bene che cosa ho tirato fuori da lì. Ho tirato fuori 4x uguale 14, ovvero x uguale 14 quarti. Quindi 7 mezzi. Ho trovato facilmente la x. Ora che cosa devo fare con questo 7 mezzi? Lo prendo e lo sostituisco in una delle due equazioni del sistema. Quale delle due? Quella che più preferisco. Se per esempio mi piace molto la prima, farò 7 mezzi più 2y uguale 5. E da qui ricaverò la y. Quindi otterrò 2y uguale 5 meno 7 mezzi, ovvero 3 mezzi. A questo punto 2y uguale 3 mezzi. Se divido per 2 mi darà luogo a y uguale 3 quarti. Questo sistema è quindi chiaramente determinato e la soluzione sarà il punto 7 mezzi 3 quarti. Ora vorrei farmi una domanda. Mi vorrei chiedere sì, ma questo metodo di riduzione quindi si utilizza soltanto se io ho che uno dei coefficienti di una delle incognite è uguale. In realtà no. Vi spiego un trucchetto per poterlo utilizzare anche quando i coefficienti non sono uguali. Prendiamo per esempio in considerazione il sistema che ho appena scritto 2x meno 3y uguale 1 e x meno y uguale 6. Vedete che né il coefficiente della x né il coefficiente della y sono uguali tra di loro quindi non mi conviene utilizzare il metodo di riduzione. Tuttavia potrei facilmente per esempio far diventare x 2x. In che modo? Potrei moltiplicare tutta la mia equazione per 2. Lo posso fare perché posso utilizzare il secondo principio di equivalenza. In questo caso quindi come diventa il mio sistema? 2x meno 3y uguale 1 e la seconda equazione si trasformerà in 2x meno 2y uguale 12. È chiaro che se avessi voluto ottenere l'annullamento della y invece che della x avrei per esempio moltiplicato per 3 ottenendo così meno 3y e da quest'altra parte 3x. A questo punto che cosa faccio? Siccome i coefficienti della x vedete sono uguali e hanno anche lo stesso segno che è più a me conviene fare una sottrazione di tutti i termini. Quindi farò una linea e farò la sottrazione in colonna. 2x meno 2x farà 0 meno 3y. Attenzione, meno meno 2y. Quindi questo meno 2y diventa più. Quindi otterrò meno 3y più 2y. Ve lo scrivo. uguale 1 meno 12. Quindi che cosa ho ottenuto? Meno y uguale meno 11 e quindi y uguale 11. Anche qui non farò altro che prendere il valore appena trovato 11 e andarlo a sostituire in una delle due equazioni. Quale delle due equazioni dipende soltanto da voi? Se per esempio decido di sostituirla nella prima otterrò 2x meno 3 per 11 uguale 1. Quindi avrò 2x meno 33 uguale 1 che mi darà luogo a x uguale 34 mezzi ovvero 17 quindi la mia soluzione finale sarà 17 11 Ok belli tezio prometto che questo è l'ultimo esercizio. Vi ho scritto quest'altro sistema. Vediamo perché. Innanzitutto osservo che in forma canonica mi raccomando nel metodo di riduzione è molto importante che le x e le y siano incolonnate perché altrimenti non riesco a fare la somma o la sottrazione o meglio non la posso fare e magari non mi accorgo che sto sommando o sottraendo le x con le y. Nell'esercizio precedente che cosa vi ho detto? Che posso utilizzare agevolmente il metodo di riduzione se o la x o la y hanno lo stesso coefficiente. Questo però non succede in questo caso perché vedete qui è 3 e qui è 2 qui è meno 5 e qui è 2 quindi in questo caso né la x né la y hanno lo stesso coefficiente. Vi ho detto poi che potrei moltiplicare una delle due equazioni per un numero in modo da far sì che o la x o la y abbiano lo stesso coefficiente dell'altra equazione. In questo caso però vedete che cosa succede che non riesco a trovare un numero che moltiplicato per la prima equazione mi renda per esempio la x 2 oppure la y 5 o meglio non c'è un numero intero quindi potrei decidere di moltiplicare per una frazione per esempio due terzi però non portiamoci le frazioni avanti perché è sempre più difficile fare i calcoli con le frazioni allora che cosa posso fare? Supponiamo per esempio di voler togliere la x perché decido di togliere la x? In maniera del tutto arbitraria mi piace di più allora che cosa faccio? Prendo il 3 e il 2 e ne calcolo il minimo comune multiplo il minimo comune multiplo sarà ovviamente 6 ora che cosa devo fare? Devo utilizzare questo 6 e fare in modo che il coefficiente della x sia della prima equazione che della seconda equazione risulti essere appunto 6 per far questo quindi che cosa faccio? moltiplico la prima equazione per 2 e la seconda equazione per 3 vi ricordo che posso fare quello che voglio in un'equazione moltiplicare dividere sommare o sottrarre purché io faccia quell'operazione sia a sinistra che a destra come diventerà il nostro sistema quindi 6x meno 10y uguale 8 quindi vedete ho moltiplicato tutti i coefficienti per 2 e sotto guardate un po' 6x più 6y uguale 3 a questo punto non mi rimane che operare la sottrazione poiché i termini con la x sono uguali e hanno anche lo stesso segno più quindi mi conviene fare meno meno 6x meno 6x farà 0 meno 10y meno 16 farà meno 16y 8 meno 3 farà 5 da qui quindi ricaverò che y è uguale a meno 5 sedicesimi per finire sostituirò questa y in una delle due equazioni che avevo in precedenza per esempio nella prima e scriverò 3x meno 5 per meno 5 sedicesimi che è il valore della y che ho appena trovato uguale 4 a questo punto 3x più 25 sedicesimi uguale 4 quindi 3x uguale 4 meno 25 sedicesimi faccio il minimo comune multiplo e ottengo 16 sotto 16 per 4 64 64 meno 25 39 per finire dividerò tutto per 3 quindi nel dividere per 3 ricordatevi che equivale a moltiplicare il denominatore per 3 quindi x sarà uguale a 39 fratto 48 la nostra soluzione sarà quindi 39 48 per la x meno 5 sedicesimi un consiglio che voglio darvi è non vi fossilizzate sul fatto che la soluzione debba venire necessariamente formata da numeri interi 0 2 3 4 i numeri sembrano molto brutti in questo caso 39 48 meno 5 sedicesimi ma questa è la soluzione del nostro sistema quindi abituatevi a pensare che le soluzioni possono essere anche non molto carine anche con il metodo di riduzione abbiamo concluso vi aspetto sui prossimi video che saranno sui sistemi di 3 equazioni in 3 incognite e soprattutto sul mostro sistemi letterali che vi crea sempre tanti problemi grazie per essere arrivato alla fine di questo video se pensi che i contenuti del mio canale possono aiutarti a farti uscire dalle paludi della tristezza iscriviti oppure condividi con i tuoi amici bisognosi di una sufficienza se invece vuoi suggerirmi degli argomenti da trattare o degli esercizi da svolgere lascia un commento ciao alla prossima lezione da Diego ti spiego